Anche noi, perché questi tre fratelli, no, questi tre fratelli partavano dall'America, però uno si è fermato a New York e l'altro continuava a Buenos Aires, però uno anche si è rimasta in Inghilterra, erano tre, adesso una in Inghilterra. In me ho un fratello che è morto, due fratelli, sono otti, ho dei nipoti, ma sono qui ogni tanto che dici che è bella, la parentela viene a lunga, si rompe, insomma, non mi conoscono niente, ma quando c'era il mio fratello scrive.